C'è l'altra espressione, se il Signore sta alla mia destra, non potrò vacillare. Anche questa è una frase bellissima, vuol dire, se io agisco tenendo conto del Signore, facendo la sua volontà, sottomettendomi al suo volere, anche quando non lo capisco, allora tutti i fatti della mia vita acquistano un senso, niente ci può distruggere. Qui dice non potrò vacillare, però bisogna avere il Signore sempre davanti a noi e collocarlo alla nostra destra. Quando invece agiamo a prescindere dal Signore e non lo mettiamo alla nostra destra, non è più il principio delle nostre azioni, allora magari facciamo cose sbagliate che poi ci rovinano, rovinano la nostra vita. Ma se invece siamo aperti sempre al volere di Dio, la nostra vita ha sempre un grande valore e nessuno la può distruggere.